la nostra frutta parla da sola Farinelli Fresco Market Partiamo alla prima parola Ambrugara che vuol dire l'accabamento del trabalho di ragionare si scrive Ambrugada e si pronuncia Ambrugara un esempio è già l'Ambrugara del dia ora da cento e munanem questa è una dasdiciat vede il castellano e vuol dire che non c'è fortuna non c'è buona solda si scrive dasdiciat e si pronuncia dasdiciat è sempre è una prova giova dasdiciatra non c'è mai fortuna un'altra bella risurano cosa vuol dire? vuol dire una persona che riu sempre o massa si scrive risolano e si pronuncia risurano è sempre se è un po' che massa risurano mi rende essere un po' che è serio anima l'altra che vuol dire non ricordare ma è un studio o un lavoro si scrive dasdiciatra e si pronuncia dasdiciatra è sempre da spesso di tanti anni che mi hai toccato un libro e dasdiciatra tutti non raccolti ma è il resto ora vedo la regia e le vittorie in diretta il pane di tutti i giorni cotto anche con forno a legna Farinelli Fresco Market Farinelli Fresco Market per questa vostra questione possiamo contattare la pagina Facebook e il loro channel a vivere a vivere